Sono Gobbonibus, salve, discepoli, seguaci, followers, gobbi e gobbini, il vostro Gobbonibus è qui per darvi delle comunicazioni importanti. Sono qui per dirvi che la Juve batterà il porto 3 a 1 a un porto e poi vinceremo 3 a 0 a Juventus Stadium come Champions League faremo 3, me lo dice Gobbonibus. I napolicani subiranno una disfatta grandiosa contro il Real Madrid, sì, non c'è dubbio, ve lo dico io, Gobbonibus. Perderanno, perderanno, lo dico io, Gobbonibus. Perderanno, non avranno speranze, 6 a 0 a Madrid. Sì, sarà un grande trionfo. Sono contento che perderanno 6 a 0 perché sono perdenti. Sì, e questo ne sono sicuro, in ritorno a Napoli perderanno 3 a 0, sì, sì, e poi lo esicheranno quando la Juve sarà ancora con l'antichempio, se loro invece eliminati e mortificati, sì, e ve lo dico con grande sicurezza. Che libidine, che libidine, sì, sì, non avete vinto un cazzo, me lo dice Gobbonibus, sì, voi avete una squadra scarsa, non avete attaccanti forti. Eh, 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 noi ci siamo presi Quain, eh, 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 e ora voi senza Quain non segnate più, eh, come caspita fate a fare i gol, non li fate, noi siamo più forti, eh, eh, eh. E' la terza squadetta consecutiva, la terza squadra consecutiva, vi ho trattato, tifosi Napoli e Cani, vi ho trattato con i quarti, avete capito, imbarate a perdere. Un saluto a tutti, gioventini, gobbi e gobbili, discepoli, seguaci, follower, un grande saluto da Gobbonibus.